Benvenuti in questo travel vlog Stiamo andando a prendere Manu Che ovviamente ha detto di non stare bene, come sempre Manu se bisogna fare qualcosa non sta bene E poi si va a Malpensa a prendere l'aereo per Berlino Oh cazzo, un gatto nero mi ha appena attraversato la strada Sicuramente porterà meno sfiga di Manu Sono incazzatissimo, sono incazzatissimo Ma come stai bene, che cazzo dici, mica stai morendo Che cazzo hai? Hai la febbre? Guarda, guarda, guarda qua Gli occhi, guarda come sono pieni di Eh, diciamo che ora Finalmente stiamo fumando la nostra sigaretta Nella nostra agrafumatori personalizzata che io sto contaminando i germi Siamo i primi nell'imbarco In mio modo di sanse Siamo i primi nell'imbarco Bella rega Siamo arrivati a Berlino Stavamo cannando già in partenza Beh, arriviamo nel parcheggio Prendiamo la navetta per arrivare all'aeroporto E scendiamo Appena ci aprono le porte e scendiamo Poi per fortuna si è acceso un pezzo di cervello Che mi dice cazzo ma sarà mica il terminal 1 E per fortuna mi son girato dopo un metro di strada E ho ripreso il bus per andare al terminal 2 Cazzo Se no Era un cazzo Un bel caffettino Stavamo aspettando il bus 100 metri in là Ci ha guardati Ed è andato avanti Non ho parole cazzo Appena ci siamo allontanati Perché avevamo perso le speranze nel bus È arrivato Cioè, bastano andare 10 metri avanti È affattivo Cioè, bastano Grazie a tutti 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 Grazie a tutti